E ritorniamo su Poppy Playtime 2 Oggi torniamo qua ad utilizzare le hack Perché voglio scoprire insieme a voi un nuovo segreto A quanto pare, tramite le hack, possiamo trovare Il corpo di Mommy Long Legs Possiamo proprio vederlo e scoprire Che cosa gli è successo realmente Quindi andiamo a scoprire tutte quante queste cose Ma come sempre, siete qui su tantesimi like Lasciate più like possibili per supportare la serie E per supportare Aggie Waggie E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi Iscrivetevi al canale, attivate la camparellina Ma adesso i diritti partire Cominciamo, andiamo subito a provare Le hack su Poppy Playtime 2 E andiamo a scoprire che cosa è successo Realmente a Mommy Long Legs Quindi carichiamo dall'ultimo checkpoint Che sarebbe proprio l'ultimo finale Prima di eliminare definitivamente Mommy Long Legs Ok, allora, tramite le hack, come abbiamo visto Nei video scorsi, possiamo muovere La videocamera, ma a quanto pare Ci sono anche dei comandi che ci permettono Di distruggere anche gli oggetti Come potete vedere qua infatti Siamo all'interno di questa zona qui Guardate qua, c'è sto coso Sto barile qui Ma io tramite l'hack Che si chiama proprio Destroy Target Posso distruggerlo Avete visto? Abbiamo distrutto il barile E questo possiamo utilizzarlo anche per muoverci Ad esempio nelle altre zone segrete Ad esempio, voglio ottenere sto coso Sta scatoletta qua Metto di nuovo Destroy Target E guardate l'abbiamo distrutto Da notare che quella scatola è stata distrutta Ma questa rimane qui sopra Ma che roba! Ma dai! Ma insomma, possiamo comunque anche togliere le varie cose Ad esempio, adesso tiro qua la leva Come potete ben vedere Posso muovermi all'interno dello scenario Utilizzando la telecamera volante E distruggere gli altri oggetti Senza per forza che io mi muova Quindi, rimettiamo di nuovo qua Quindi, toggle, debug, camera Quello che abbiamo fatto nei video scorsi E ci possiamo muovere all'interno dello scenario Possiamo volare Quindi, direi di fare una cosa Per prima cosa proprio togliamo questa grata Quindi, come prima Toggle, debug No No, no, sbagliate Sbagliate, volevo fare questo Ho sbagliato il comando Voglio dire Il comando è quello per togliere gli oggetti Quindi mi avvicino qua dove c'è la grata Devo fare molta attenzione Perché se no qua io rischio di togliere il pavimento E non è per nulla una cosa simpatica Ok Quello abbiamo tolto Adesso togliamo anche di qua Come prima Va bene Destroi target Sì Abbiamo tolto le grate Questo ci servirà Per poterci nascondere Quando Mommy Long Legs Inizierà a camminare lungo questo corridoio Perché la nostra cara mammina Si muove qua Lungo il corridoio Ma va dritto Non è che si gira lateralmente Se io mi metto di lato Lei non mi vede Quindi questo ci permette Di andare ulteriormente oltre Adesso è arrivato il momento Di togliere questo cancello Quindi lo facciamo subito Mettiamo come prima il comando Destroi target Ok Cancello distrutto E adesso dobbiamo togliere qui Guardate C'è qua il macchinario Quello che serve appunto per triturare Adesso lo toglieremo insieme Proviamo a vedere che cosa succede Una volta che noi lo togliamo E niente Vediamo l'esperimento Se funziona oppure no L'ho visto fare da uno youtuber E a lui è funzionato Speriamo che funzioni anche qui da me Dobbiamo pure togliere qua adesso Le assi di legno che stanno qui davanti Ok Asse numero uno Tolta Mettiamo sempre qua Asse numero due Tolta E infine Ultima asse Da togliere E togliamo anche qua Il cancello Questa cosa qui davanti Guardate qua Possiamo entrare nella stanza segreta Direttamente Anche quando useremo Il personaggio Spettacolare Bellissimo Ma io preferisco vedere Un'altra funzione Di questa Diciamo Cosa no Di questa telecamera volante Ossia Il teletrasporto Ma potete ben vedere Noi ci stiamo muovendo qua Ma Si muove soltanto la telecamera Abbiamo pure la possibilità Di teletrasportarci Ad esempio Io metto qui davanti Qui di lato Mettiamo qua Teleport Ok Vediamo se funziona Sì Guardate Ci siamo teletrasportati Proprio come personaggio E quindi Adesso tolgo qua Il toggle camera Questo qui Guardate qua Siamo praticamente Nella parte Oltre della ragnatela Siamo tornati qua Nella zona segreta Bellissimo Possiamo esplorare Tutte quante le parti Che abbiamo già esplorato prima Sì sì Qua ci siamo stati Proprio all'inizio Non so se vi ricordate Vabbè Non proprio all'inizio del gioco Ma ci siamo stati Prima di affrontare Definitivamente Mommy Long Legs Qui ci sono le leve Quelle da aprire Con il cancello Che poi abbiamo aperto Ma se avuto di qua Mommy Long Legs Tornerà Oppure abbiamo sconfitto Definitivamente Proviamo a vedere Di qualche cosa c'è Così per curiosità Mammina Sei di qua Sei da queste parti No Non è di qua Ah sì Questo posto Ve lo ricordate bene No Qui dove noi tiriamo Poi la leva Per scappare definitivamente Da Mommy Long Legs Che si trova di qua Quando noi andiamo di qua Guardate Lì c'è la leva Adesso non la tiro Perché vorrei provare Nel prossimo video Guardate Lì c'è pure la discesa Dove noi siamo caduti Ma che roba Beh Ci sono tante cose belle Da esplorare In effetti Tante tante cose Molto belle e interessanti Lì dove abbiamo aperto La porticina Ah lì c'è il braccio Di non so che cosa Vediamo qui sopra Se è cambiato qualcosa Dopo che viene Mommy Long Legs Qui c'è qualcosa di particolare Niente di niente Va bene E possiamo tornarcene Allora dove eravamo Prima Sempre se riesco Ah qui c'è la porta Vediamo se adesso si apre No la porta di qua Non si apre E' quella dove noi Siamo scappati Alla fine Ok torniamocene Via 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 Corri personaggio Corri personaggio Devo di qua Di corsa Andiamo a vedere Se funziona L'esperimento Quello di vedere Il corpo Di Mommy Long Legs Una volta che viene presa Dal Meet Grinder Che noi abbiamo tolto Abbiamo distrutto Sempre se adesso Riesco a tornare qua In qualche modo Allora devo cercare Di togliere sta ragnatela Vabbè Eh no Non c'è bisogno Basta che vado qua Come prima Uso Toggle debug camera Così mi sposto In avanti Qui Dopodiché Metto il teleport Perfetto E infine Rimettiamo qua Toggle debug No Ma dai Sono bloccato qua Ma dite che riesco Togliere sta ragnatela Aspettate eh Devo cercare di togliere La ragnatela Altrimenti qua Non riesco proprio A togliermi di mezzo Vediamo qua Destroy target Ah ok Per fortuna La ragnatela Si può distruggere Per fortuna Quella si può distruggere Adesso prepariamoci Perché proveremo Ad evocare Mommy Long Legs In queste condizioni Dopodiché Noi ci nasconderemo Di lato Nel corridoio laterale Con la speranza Che lei non ci venga A prendere Se siete pronti A vedere l'esperimento Mi raccomando Se avete ancora fatto Lasciate il like Sotto questo video C'è anche Huggy Wuggy Che ve lo sta chiedendo Vero Huggy? Devono lasciare il like Giusto? Eh vedete Anche lui conferma Quindi Andiamo dritti di qua Quindi saliamo qua Lungo il corridoio Dobbiamo cercare Di prendere subito La mano Dopodiché Una volta che compare Mommy Long Legs No Qua Vediamo se lo prende Qua Via 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 Nascondiamoci Di corsa Di corsa Di corsa Mommy Non sono di qua Non sono di qua Ciao Cara Mommy Avete visto? Avete visto Mommy Long Legs? Ok Andiamo a vedere cosa sta succedendo Andiamo a vedere Mommy Long Legs È stata presa Guardate Sta venendo presa Dal Meet Grinder Non l'abbiamo tirato la leva Non l'abbiamo tirata E adesso qua è caduto Guardate proprio dove è entrata Mommy Long Legs Avete visto? Spettacolare Sì ma la manina Non viene adesso qua La manina che si viene a prendere Mommy Long Legs Non compare Avete visto? Non viene la manina Allora Proviamo a fare una cosa Va Iniziamo allora a togliere qua Tramite le hack Questa parte qui Quindi Destroy Target Ok E qui sotto dovrebbe trovarsi Allora Mommy Long Legs Mamma mia Ma che? La musica sta andando avanti Va avanti la musichetta Togliamo anche di qua Il Destroy Target Come prima Ed eccola qui Guardate La state vedendo anche voi Aspettate Continuo a distruggere qua Le varie parti Abbiamo trovato il corpo Di Mommy Long Legs Guardatelo qua Guardate dove si trova Spettacolare Ok Ok è distrutto tutto quanto qui intorno E qui possiamo ammirare Mommy Long Legs Che è rimasta qui sotto È proprio presa All'interno Del coso Del meat grinder Che l'ha praticamente triturata Ma ha lasciato la sua testa Lì davanti Spettacolare Bellissimo Va bene Ma adesso è arrivato il momento Di tornare Nella normalità Vediamo cosa succede Se io provo ad avvicinarmi Questa volta Con il corpo di Mommy Long Legs In quel modo Quindi rimettiamo qua Come prima Toggle the bug camera Ok Vediamo cosa succede Mommy Dove sei È di là Mommy Long Legs Proviamo a vedere Che cosa succede Se io provo ad avvicinarmi Vediamo cosa succede Posso andare Posso avvicinarmi Andiamo a vedere Il corpo di Mommy Long Legs Mommy Sei ancora viva Posso venire qua Succede qualcosa Se mi avvicino qui da te Mamma mia Tiriamo la leva Mamma mia Mamma mia Ma che roba Ma mi ha preso un colpo Mi ha preso un colpo È danuto un'altra Mommy Long Legs Qui davanti Guardate qua Cosa sta succedendo Ma quante Mommy Long Legs Stanno comparendo Qui davanti Ma che roba No no aspettate Voglio mettere qua Il Il coso Toggle the bug camera Come prima Perfetto Dopodiché Mettiamo qua Il teletrasporto Vediamo qua Ok No 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 Togli qua Togli qua il debug camera Dove sono? Guardate Guardate Sono qui davanti al prototipo Sono davanti al prototipo Che si è portata via Mommy Long Legs No bellissimo Veramente Ma cosa sta succedendo Qua Ma che roba C'è veramente Abbiamo fatto un sacco di esperimenti All'interno di questo video Poi qui ci sono Vabbè Qui c'è una parte di Mommy Long Legs Qui davanti Qui c'è un'altra Sempre lì bloccata Ma dai Ma quante ne compaiono Quante Mommy Long Legs All'interno di questo video Bellissimo Proprio Ti metto qui davanti la mano Compara un'altra Mommy Long Legs No così per curiosità No niente Non succede più nulla Nulla di niente È lì che va avanti Non aveva ancora premuta quella mano Quindi da un lato ci sta La leva l'ho tirata Ma che cos'è Doppio Mommy Long Legs Abbiamo qua Ne abbiamo avute due addirittura Qui c'è un corpo volante Qui sopra Vabbè E lasciamo perdere Proseguiamo allora di qua Vediamo se troviamo qualcosa di utile Che ci può servire Quindi saliamo qui sopra Di corsa Proviamo a vedere che cosa c'è Nei piani superiore Questa volta tramite il teletrasporto Possiamo pure uscire E andare ad esplorare la parte della stazione Senza dover ricorrere ai bug Ed è spettacolare sta cosa È veramente molto molto bella Voglio provare prima Anche a togliere sta cosa Quindi distruggiamo questa porta Vediamo se c'è qualcosa No non c'è niente Non c'è niente Preferisco non approfondire Allora Andiamo 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 Saliamo nei piani superiori Di questa zona Ok Apri qua la porticina Ed eccoci qua Siamo tornati qui nella metro station Siamo ritornati di qua Quindi come prima Andiamo qua Con il debug camera Scendiamo di sotto Questa volta mettiamo il teletrasporto E ce ne scendiamo appunto qua Nei piani inferiori Quindi andiamo qua Teletrasporto Perfetto Poi mettiamo qua Togliamo il debug camera Sì Guardate Siamo davanti alla stazione Siamo qui davanti Spettacolare Ma qui non mi fa più aprire Però Volevo rivedere le zone precedenti Volevo rivedere le altre zone E' un peccato Veramente Che non me le faccio vedere Ah no aspettate Aspettate Ma io posso distruggere direttamente L'oggetto E' vero Posso distruggere gli oggetti Destruo i target E guardate qua Eh però non vedo niente E non si vede niente Ma dai E' tutto buio Tutto coperto Dall'oscurità E accendetele le luci Cosa vi costa Accendere le luci Ma che problemi hanno Qua non accendere le luci Ok Oppure di qua Vediamo se qua dietro Mi fa vedere qualcosa Proviamo a vedere Destrui target No Allora Ho detto Destrui target Distruggi qua No Non lo distrugge proprio Non lo vuole proprio distruggere Eh Peccato Peccato Mi distrugge Qualcancello Loro Mettiamo qua il debug camera Ah però possiamo andare di qua Perfetto Questo me lo fa fare Qui mi ci fa andare Però mi fa esplorare di là Ah ho capito perché Ho capito adesso Rimettiamo qua il teletrasporto Quindi teletrasportiamoci qua Togliamo il debug No No mi ci fa andare Ma dai Ma cosa Perché mi ritrovo qua Ma che roba Ma no Peccato Peccato No Insomma Comunque ci sono ancora altri esperimenti Che vorrei provare a fare insieme a voi Quindi rimanete sintonizzati Su questo canale Perché ci saranno altri esperimenti Altre cose E altri segreti Da scoprire E spero che vi piaccia comunque Questa serie di Poppy Playtime 2 La sto cercando di fare il più completo possibile Nei prossimi video Faremo anche dei collegamenti Con Poppy Playtime 1 Per scoprire anche le novità Che potremo trovare Su Poppy Playtime 3 Perché se noi unissimo due capitoli Possiamo Iniziare a trovare anche delle prime anteprime Dei prossimi capitoli Di Poppy Playtime E quindi che dire Io dirò di fare una cosa Eh no volevo entrare qua nel saltellino Ma mettermi qua a saltellare Eh sì aspettate Posso farlo Posso farlo Aspettate Aspettate Vedi qua personaggio Non entra Non entra Ti aspettate Ok Mentre metto qua a saltellare Sul tappeto rimbalzante Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se vorreste vedere Altri esperimenti di Poppy Playtime 2 Insieme al nostro caro amichetto Aggy Waggy Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è 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 piaciuto Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva L'avventura non finisce qua Perché qui davanti Vi compariranno ben 4 schede Con 4 serie differenti Cliccatele una Buona visione Ci vedo direttamente Nella di quelle serie Ciao a tutti E buon parino a tutti E tanti cari saluti Daggy Waggy